Benvenuti su A Tutto Gossip Ita, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e attivare la campanellina. Il mondo dell'intrattenimento italiano è avvolto in un enigma a seguito della recente telefonata tra Pier Silvio Berlusconi e Barbara D'Urso. Fonti vicine al magnate delle comunicazioni rivelano che Berlusconi avrebbe personalmente contattato la rinomata conduttrice per discutere del suo possibile ritorno in Mediaset. Tuttavia, la conversazione avrebbe preso una svolta inaspettata, con Berlusconi ponendo una condizione insolita per la sua reintegrazione nel network televisivo. Secondo i resoconti, avrebbe richiesto ad Urso di dimostrare la sua fiducia nell'azienda e nella sua leadership prima di considerare seriamente il suo ritorno. Questo avvincente sviluppo ha lasciato sia i fan che gli addetti ai lavori in suspense, con speculazioni su cosa potrebbe significare esattamente dimostrare fiducia. Nel frattempo, Barbara D'Urso non ha ancora commentato pubblicamente sulla situazione, mantenendo un velo di mistero su come intende rispondere alla richiesta di Berlusconi. Gli esperti del settore sono divisi sull'interpretare la richiesta come una mossa strategica o un segno di sfida. Mentre il pubblico resta con il fiato sospeso, è chiaro che questa conversazione avrà un impatto duraturo sul panorama mediatico italiano.